Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati il giorno dopo l'Apple Event Purtroppo oggi non riesco a fare un video con tutta la recensione dei vari prodotti che sono stati presentati in questo che è noto che comunque finalizzato per la prima volta è stato possibile vederlo direttamente in diretta Quello che invece volevo fare insieme a voi che ho aspettato è quello appunto di andare ad aprire insieme il nuovo iTunes 10 in quanto è già uscito anche questo nuovo aggiornamento in italiano come possiamo già vedere l'icona è cambiata andiamo ad aprire insieme l'applicazione che comunque questa applicazione come novità oltre a cambiamenti dal punto di vista dell'interfaccia grafica ha inserito, è quello qui che si sta aggiornando come vedete l'interfaccia veramente bella la sto aprendo con voi insieme per la prima volta come vedete sta aggiornando tutto quanto perciò è veramente veramente bella e come cosa soprattutto oltre ad aver cambiato l'interfaccia grafica come stavo dicendo prima ha inserito anche questo nuovo social network dedicato alla musica che si chiama Ping e cosa che adesso vediamo a vedere per carità questo non si sentiva a mio avviso una necessità di aggiungere un ulteriore social network ma vediamo, stiamo a vedere insomma prima di poter dare un giudizio a tal proposito preferisco provare a riscrivere e mi iscriverò prossimamente se non di stasera o almeno di domani e dopo comunque chi vorrà, chi mi segue diventa iscritti di youtube chi mi vuole aggiungere insomma troveremo un modo per scambiarci i contatti allora, come possiamo già vedere qua i pulsanti qua in alto anche se non sono ancora colorati hanno cambiato l'ordine non sono più disposti in orizzontale ma disposti in verticali il rosso, il giallo e il verde come potete vedere i pulsanti naturalmente classici per il play è cambiato questo di volume le immagini non sono più qua diciamo a colori come possiamo vedere dei film, programmi, podcast e quant'altro tutto è rimasto tutto è rimasto così in grigio, bianco e nero e come possiamo vedere è cambiato anche la gestione della libreria dove appunto adesso sono sparite per chi ha più canzoni di più cioè ha più canzoni dello stesso album di un certo autore adesso c'è la funzionalità che appunto come potete vedere fa una raccolta fa apparire l'immagine qua a sinistra e dopodiché le canzoni presenti in quel determinato testo adesso sta facendo una connessione perciò sarà un attimino lento scusatemi per questo possibile prolungamento inutile di questo video troppo anche c'è la wireless che devo ancora sistemarla e ripristinarla ricambiando un router ma ancora quello vecchio perciò può dare qualche problema a qualche rallentamento comunque veramente eccoci qua che sta caricando tutte le immagini finisce l'aggiornamento ed ecco qui insomma diciamo che adesso di queste qua ha recuperato le immagini con calma e si recupera e come vedete adesso nello store è apparso anche ping e perciò adesso cos'altro eccolo qui e perciò come vedete i pulsanti per chiudere per riaprire ci sarà da passi un attimo l'abitudine a vedersi uno l'icona così un po' strana e dopo comunque anche questo a disposizione possiamo vedere quello del volume come si presenta veramente simpatico sono state mantenute comunque la visualizzazione diciamo classica dove si può vedere quella principale della versione precedente altrimenti è stata trovata questa dove appunto vengono raggruppate le canzoni per i vari album altrimenti mantiene sempre la possibilità di vedere le copertine oppure la visione naturalmente in cover flow come siamo già abituati comunque utilizziamo questa nuova che è veramente simpatica e adesso sta effettuando come potete vedere il download dell'app special event mettiamola in pause andiamo insieme a vedere un attimo ping se mi riesce ad accedere e questo insomma è solo per quanto riguarda iTunes 10 e cos'altro insomma io provo adesso ad accedere con calma e a vedere un po' altro da spiegare non c'è particolarmente insomma a parte questi cambiamenti grafici e nient'altro allora ci sentiamo domani con il video dove appunto ora vi faccio la recensione di tutte e tutte le novità presentate ieri ciao 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 ciao